Musica Bella a tutti ragazzi, qui Golis e ben ritrovati sul canale di The Maniac Signori, oggi siamo qui con questo nuovissimo video sempre su Call of Duty Black Ops 3 Oggi riprendiamo la campagna che abbiamo lasciato in sospeso nello scorso episodio E oggi siamo nel terzo episodio, non vorrei dire stupidaggini Quindi partiamo subito Gli omicidi, i drive rubati alla Black Station Temo che la squadra di Taylor sia compromessa Abbiamo combattuto con loro per 5 anni Li conosciamo, non è da loro Sono gli immortali, è lo stile con cui uccidono Taylor, gli immortali Comunque, i drive sono stati rubati Troviamoli e i filmati della sicurezza ci diranno tutto Hendrix, qui hai dei contatti Vuoi farci arrivare, Daico? C'è un trafficante che lavora con loro Danny Lee È un tipo abbastanza losco Con molti aggacci Prova a usare il tuo fascino Quando saremo vicini Kane rintraccerà i drive I 54 non sono mai stati così potenti Forze armate di Singapore CIA Nessuno ci toccherà Vi affidate ancora a tipi come Jejong? Jejong? Nessuno lo vede da anni Fanculo Jejong Perché dovrei essere interessato ai vostri schifosi robot? Perché sono i modelli più sofisticati Codice nero Più che il nero, Hendrix Mi interessa il verde Forse non lo sai, ma Il dollaro di Singapore non è come un tempo Ehi! Un altro giro! Chi l'avrebbe detto? Esplode un edificio in centro E tutto piomba nel caos e nell'anarchia Su, Danny Da quanto ci conosciamo, eh? So cos'è successo qui Quella storia schifosa della zona di quarantena Pezzo di idiota! È così che tratti gli ospiti? Forza, Danny, calma Sentite Siamo qui solo per affari Sapete che le tecnologie belliche dell'accordo di Winslow Sono le migliori al mondo, no? L'accordo di Winslow? Non vale un cazzo nella zona di quarantena Dov'era il giorno del disastro? Quando l'esercito ci ha abbandonati e costruito il muro Non ho ancora trovato i drive Sai chi c'era? I 54 immortali Hanno costruito qualcosa di utile Occupato il parco E dirottato l'energia solare dai supertri Se non fosse per loro Questa fogna non avrebbe neanche energia elettrica Loro ci hanno dato Una speranza Sì Con l'appoggio del CDP Questo porto è il crocevia del loro contrabbando di armi Non so chi sei Ma ti dico una cosa Quando i vecchi amici ti piantano in asso Trovatene di nuovi Vediamo i tuoi robot in azione, Hendrix Forse mi convincerai Non chiediamo altro Ma davvero? Gomin, Gojulan Ah, che sorpresa Non mi aspettavo di vedervi qui Noi non ci aspettavamo di vedere le forze speciali dell'accordo Ehi, frena Non so cosa hai sentito Ma hai capito male Non cerchiamo guai Lavoriamo da soli Non insultarmi con queste menzogne Tu E i tuoi amici avete ucciso la nostra gente E' imperdonabile Credi davvero che non sappiamo cosa ci fate qui? Hendrix, siete in trappola Che si fa? Ora Venite qui Minchia Non è il robot Piano B Piano B Game Inizio protocollo secondario Echo 2 Oh armi Pensavo che tu e Danny Lee foste amici Sì Anch'io Squadra robotica in modalità da salto Oh merda Incredibile Iniziamo E anche se non è entrato C'è I 54 Non sono mai stati così potenti Sì Di nuovo Ok Forza armati Allora ragazzi In questo episodio Cioè Così Oggi vi porterò anche I collezionabili Che cazzo è Squadra robotica No no ma siamo serio Siamo che tu e Danny Lee foste amici Sì Anch'io Squadra robotica in modalità da salto Ok Allora Il primo collezionabili Dell'uomo E' qui Non ricordo male Sala server alla cloud mountain Nel cuore del loro territorio Scommettiamo che raggiungeremo anche i cogiurati Ok ragazzi Il primo è piccolo Anche la coalizione del Nilo si è unita alla festa Scherzi Cos'è? Sono qui in vacanza Il prossimo Abbiamo anche compagnia Merda Come lo butto giù a quel posto Non c'ho neanche Oh mio dio Pensavo che tu e Danny Lee foste amici Sì Anch'io Squadra robotica in modalità da salto Ok Spero tu abbia trovato qui Grazie Quella situazione si è scaldata parecchio Certo Sala server alla cloud mountain Nel cuore del loro territorio Scommettiamo che raggiungeremo anche i cogiurati Abbiamo alleati del CDP in volo Anche la coalizione del Nilo si è unita alla festa Scherzi Sono qui in vacanza Oh merda Scusatemi se sto un po' più amperato però Guardate quanta gente c'è Oh merda Che grande lo sciame che Ci sta aiutando Vediamo un po' di cambiare Mettiamo in mo' l'azione Anzi no Mettiamo questo Ok Distrutto Direi di scendere Allora il secondo collezionabile E qui Mi raccomando ragazzi La modalità tattica è utile Quindi tenetela quasi sempre attiva Sto morendo io Quella torretta ci tiene bloccati qui Venite Strosi Tutti e quattro colpini Ammazzatevi a me 100 Via libera Attenti Arrivano rinforzi dei 54 Aiuto Vi prego Non è entrato Questa Oh Scherziamo Non scherziamo Alle piante vai Mettiamo ai robottoni Granata Granata Vediamo Lo sciano Va avanti E dammi copertura Vai Di conno Sto Sto sparando A vista Ragazzi Tutto questo Non è un senso Via Ragazzi Mettiamo 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 Se si guardo ogni tanto lo schermo è perché Sto controllando un attimo la lista dei collezionabili Che ci siamo vicino ad un attimo Che è proprio nelle immediate vicinanze Allora il collezionabile Dovrebbe essere Eccolo qua Perfetto Sfruttare l'ambiente di sto gioco è importante Guarda che lo sciamero ha colpito Mori Si deve sparare ancora Non lo so Ora se la campera pure Inizio Perfetto Direi di cambiare l'equipaggiamento Mettiamo il Kuga Merda Merda Arrivano unità nemiche da entrambi i lati Dimmi qualcosa che non so La Cloud Mountain ha un ingresso secondario Vi mando le coordinate Guardate 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 Da che parte E' lo stesso Abbiamo finito Ok Allora ragazzi Andando di qua Dovrebbe essere l'altro collezionato Dobbiamo andare Vediamo Ho bisogno di una mano E' lo scuro E' lo scuro Ok E' qua ragazzi Oh andiamo Tendiamoci un attimo I robot dovrebbero riuscire ad aprire quella porta Oh merda Non possiamo competere contro quelli godi E' corazzato ma non invulnerabile Le vostre armi possono abbatterlo Abbiamo sbagliato Qua ci vogliono le armi pesanti Inchia La sala server è all'ultimo piano Dobbiamo salire Dividiamoci Che fa? Oh 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 Madonna 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 Oh 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 Certo Cerberus lì Oddio E muore Dio santo Va al secondo piano Recupero segnalato Declare la bio cupola sopra la Cloud Mountain Un VTOL partirà appena avrete il pacco Ricevuto Andiamo sopra Ok, adesso Cain La sala server è sopra di voi Sbrigatevi Gojulane con le spalle al muro Per salvarsi userà la sua ultima risorsa Informazione sui drive che cerchiamo A dietro Ancora Allora Allora ragazzi L'altro collezionabile Ecco Signoratevi Gojulane e i drive sono la priorità Ragazzi Ok 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 Ci siamo qua? No 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 Sì. Così, 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 no. No, ragà. Vabbè Sta decodificando i drive Stanno caricando tutto su un server pubblico Ogni singola informazione su quei drive finirà dritta al...